credo bene ragazzi come avete visto ho creato una crew Gioane mi aiuta tantissimo in descrizione trovate tutti i canali di loro trovate il link di discord se volete unirvi con noi contattatemi o su facebook o su un commento o su discord dove volete e niente arriveranno video insieme con la crew e niente spero che vi piaccia questa idea iscrivetevi al canale di loro al mio lasciate un bel like per questa iniziativa e niente ci vediamo al prossimo video ragazzi come avete visto prima abbiamo fatto la crew questo spacchettamento piccolo spacchettamento lo metto dopo così il video dura un po' di più spacchettiamo due pauli di omaggio soldi marchilia spiriti del fuoco niente l'altro soldi due gemme una fornace e otto spiriti come si chiamano? otto goblin langeri il laces del clan soldi gigante royal barbari scelti scheletrini e barchite niente baule d'oro oro tesle gigante due barbari barbari camanna e barbari e 24 barbari scelti oggi hanno fatto l'aggiornamento hanno regalato un baule magico eccolo qua ragazzi baule magico gratis apriamolo grazie crash royale grazie supercell oro 4 cannoni sbloccato il battle ram non mi ricordo come si chiama in italiano arcieri mini pecca gigante royal moschettie che ci servono e 3 veleni che schifo ragazzi ma vabbè non fa niente ragazzi niente per questo piccolo spacchettamento è tutto vi ricordo di lasciare un like scrivervi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video